ben ritrovati di nuovo su review.io oggi vado a recensire insieme a voi questo fornello della bushcraft essenzial un'azienda tedesca affermata sul mercato che produce questi fornelli ideali per chi va a fare escursionismo campeggio sono dei fornelli resistenti leggerissimi compatti quindi che si adattano perfettamente al vostro zaino e che vi permettono di cuocervi un po d'acqua calda un caffè o farmi un pasto caldo sono comunque dei fornelletti che variano a dipendenza del tipo di combustibile quindi alcuni si adattano più ad un genere di combustibile altri sono più piccoli altri sono più grandi e cambia anche il materiale per oggi in questa recensione oltre a far vedere non lo specifico questo modello lf bushbox lf vi farò vedere anche in comparazione gli altri modelli attraverso una tabella così che potrete orientare il vostro acquisto verso un tipo di fornelletto o verso un altro tipo vi dico subito che ho acquistato la versione da 60 euro che arriva all'interno di questa confezione di cartone che la versione base ovvero non ha come custodia quella rigida a forma di borsette non ha la parte buccherellata in acciaio inox che è ideale per rialzare il vostro trangia quella che appunto vi sto dicendo adesso con questi due accessori extra costa semplicemente 10 euro in più io ho comprato questa acqua base sul retro ci sono tutte le indicazioni tra cui i vari tipi di combustibili quindi si può usare il trange si può usare il legno si può usare anche il cosiddetto esbit quelle specie di diavoline che producono la fiamma ed è questo fornellino ma anche gli altri fornellini si adattano perfettamente le condizioni climatiche di vento e sono in questo caso questo modello in acciaio inox ma ci sono anche dei modelli tra poco lo vedremo in titanio quindi più leggeri andiamo ad aprire insieme alla confezione al volo come vedete il sacchettino per custodirlo è proprio di stoffa non ha tante pretese ecco mentre nella versione con 10 euro in più stesso modello ma la custodia è molto più robusta e qua vedete ci sono i biglietti e ridita gli adesivi e stavo dicendo che l'altra versione ovviamente c'è quella parte buccherellata in acciaio inox che vi serve per rialzare di più il vostro trange io ho comprato questa perché si adattava le mie esigenze ovvero cuocere in montagna all'aperto un pasto o comunque farmi un caffè e utilizzare nello specifico il legno come combustibile vado a tirarlo fuori dalla confezione come vedete arriva all'interno con queste due stranghette adesso vi faccio vedere a cosa servono e le dimensioni da chiuso sono veramente compatte guardate arriviamo a un centimetro e mezzo 14 centimetri e 10 centimetri aprirlo è facilissimo semplicemente si va ad aprire così e si chiude anche così quindi una volta che voi lo aprite la prima cosa che dovete fare è andare a far scendere questa parte qua ok verso il basso che si va a incastrare in queste due fessure vedete è fatto apposta e questa qua è la base quindi permetterà alla vostra braccia di cadere qua al di sotto di non toccare il terreno perché magari il terreno si potrebbe incendiare secondo step è far cadere come ho fatto io adesso questo quest'altra parte la parte buccherellata era anche questo sul lato e la si fa anche questa adattare qui nella parte buccherellata una volta che avete fatto scendere queste due parti ovviamente una volta che inserirete la legna la braccia si depositerà sul fondo cadendo da questi fori guardiamo un attimo da questo lato il fornellino qua c'è la fessura la bocca dove si inseriranno all'interno i legnetti andiamo a misurarle insieme così se anche vuoi farvi un'idea abbiamo sei centimetri per cinque e mezzo qua la misura abbiamo già la misurata 14 qua i dieci centimetri e in alto abbiamo dieci centimetri per dieci centimetri a che cosa servono queste due stanghette? beh servono essenzialmente per andare a fare da griglia e posizionare la vostra tazza, la vostra mocca, la vostra pentolina come vedete ci sono delle fessure qua sia qua sia qua e voi potete quindi scegliere come posizionare la vostra griglia in base anche alle dimensioni della vostra pentola ci sta benissimo una mocca ho fatto anche una recensione su questa mocca da una tazza in questo caso vado a ristringere perché è un po' troppo largo la griglia di appoggio come vedete ci sta ma ci sta anche un pentolino come vedete ed è stabile ha due fessure effettivamente le fessure diciamo più in alto sono quelle più profonde quindi quando andate a posizionarle resta più basso ovviamente scende di più mentre se lo posizionate dall'altra parte ovviamente le fessure meno profonde lo rialzano di qualche millimetro detto questo ci sono anche dei buchini come vedete sulla pagina del produttore si vede appunto che vengono inseriti dei picchettini quelli per fissare la tenda e in questo modo si può anche avere una base d'appoggio ulteriore ma nulla togli che possiate mettere anche degli spiedini degli spiedi di ferro e magari cuocere degli spiedini di carne però la fiamma deve essere veramente contenuta ci deve essere pochissimi abbracci se no si carbonizzano ma adesso non sto qua a specificarmi il metodo di cottura ma arriviamo anche a capire un attimo perché questo modello è piuttosto che un altro modello sempre di questa azienda vi faccio vedere un attimo il peso siamo a 443 più le due barrette 477 grammi veramente leggero ma adesso passiamo un attimo ai vari modelli a capire il perché ho scelto questo modello ho scelto questo modello perché si pone tra un modello diciamo medio il modello XL è quello più grande quindi quello che vi permette sicuramente di avere più fiamma di avere più fuoco che pesa di più ed ingombra di più mentre gli altri modelli sinceramente o erano troppo piccoli per le mie esigenze quindi che una pentola ci stava ma difficilmente poca stabilità poca fiamma ma soprattutto anche ho scelto questo modello l'LF tra l'altro vi lascerò tutti i link in descrizione di Amazon per il fatto che c'è anche questa chiusura intelligente con queste cerniere quindi che non si deve andare a comporre da questa tabella che adesso vi mostro possiamo vedere le varie caratteristiche che differenziano questi modelli innanzitutto il materiale acciaio inox o titanio infatti viene segnato con TI quando il forno a letto può essere anche in titanio abbiamo innanzitutto il modello edc box che è quello proprio più piccolo che è grande quanto diciamo una batteria è un modello che è tascabile abbiamo 77 grammi di peso leggerissimo ma che vi permette sostanzialmente di utilizzarlo con un combustibile Sbit quindi la classica diavolina e poi potete farci che ne so un po' di acqua bollita un caffè ma non è pensato per cucinare un pasto secondo me se volete orientarvi su questo modello potete farlo vi lascio il link in descrizione però è un modello veramente per il minimo indispensabile farvi un caffè o un bollire giusto una tazzina d'acqua e lo dovete utilizzare soltanto con l'Espit abbiamo poi il modello bushbox ultralight che pesa sui 68 grammi abbiamo qua anche la possibilità di cuocere con legno con l'Espit questa diavolino coltrancia e anche qua come vedete dalla tabella non è molto adatto con l'Espit o coltrancia per cucinare la carne per il resto dovrebbe andare bene anche per bollire l'acqua se poi volete orientarvi su qualcosa di leggero piccolo vi consiglio magari l'ultralight perché c'è un peso contenuto e componibile pure questo ma non è difficile da comporre e anche qui è interessante come modello però ecco considerate che a differenza ad esempio dell'EDC box potete adoperarlo anche con il trancia mentre il primo EDC box no abbiamo poi il bushbox o bushbox in titanio ed è componibile a differenza ad esempio di questo modello l'ALF che si apre semplicemente senza bisogno che senza che si debba comporre la versione in titanio costa 50 euro vi lascio il link in descrizione una cosa diciamo che secondo me lo sfavorisce è il fatto che si debba comporre quindi rispetto all'ALF ripeto tutta la vita l'ALF perché è più pratico secondo me e poi non pesa neanche troppo abbiamo poi il bushbox lf che è adatto diciamo per cucinare e poi abbiamo il bushbox XL che è un po' più ingombrante ha tutte le caratteristiche come vedete nella tabella del bushbox lf e vi permette anche di posizionare da come si vede anche nell'immagine una griglia sopra per cuocere della carne o comunque fare quello a grigliare anche del pesce abbiamo 800 grammi di peso in questo caso 12,5 per 19 centimetri le dimensioni quindi vedete un po' voi qual è il modello che più vi si addice io sinceramente punterei su un modello medio se anche voi non avete troppo pretese volete cuocere un piatto di pasta volete riscaldarvi un po' d'acqua volete farvi un caffè perché perché l'LF ha dimensioni e peso diciamo abbordabili il prezzo e contenuto e poi ovviamente come vi dicevo potete metterci al di sopra per le dimensioni diciamo medie sia la moca sia il pentolino i modelli precedenti sono un po' più piccoli se volete anche voi utilizzare il fuoco funzionano ma diciamo non rendono molto per la cucina di un piatto caldo e come vi ho appena detto e sinceramente magari potrebbero essere in termini di stabilità un po' meno stabili il modello XL ovviamente è molto più stabile pensato magari se volete andare in campeggio usare pentole più pesanti e ovviamente ha un rendimento un po' migliore anche perché andate a bruciare più legna c'è più calore però se volete portarvelo magari per fare trekking o escursioni diventa un po' più pesante ovviamente ingombrante quindi queste sono i vari fornelli questa è la recensione se avete domande non esitate a pormene vi lascio tutti i link in descrizione dei vari modelli che siamo andati a vedere fatemi domande sono qui e ci vediamo alla prossima review